ciao a tutti ragazzi eccoci qui con la nuova puntata di epic game allora su epic sono finite le sorprese perché adesso sappiamo già cosa uscirà la settimana prossima di solito quando è così non è che escano questi grandi giochi e infatti questa settimana ci regalano supralend che onestamente fino ad oggi non l'avevo mai sentito nominare ho letto un po diciamo visto un po il video c'è anche un video adesso lo lanciamo così vedete anche voi più o meno di cosa si sta trattando già da questo grafico si capisce qualcosa vabbè diciamo che l'introduzione abbastanza scherzosa si presume che la mappa sia grandissima invece sono solo 9 metri quadri l'ambientazione molto cartonesca diciamo così una mappa diciamo in miniatura come se un bambino stesse giocando a qualcosa vabbè comunque è un gioco basato più che altro sull'esplorazione ci sono molto i puzzle da dover risolvere per per accedere a determinate zone qui almeno sotto si legge che è un gioco per esperti quindi presumo che questi enigmi ad un certo punto incominciano a farsi difficili quindi il gioco incomincia a farsi anche un po pesante almeno per quanto mi riguarda stare dietro a un gioco per capire come devo fare a fare una cosa tre ore tre giorni una settimana onestamente anche no il sistema di combattimento abbastanza semplicissimo come vedete ci sono orde di di mostriciattoli che vi vengono addosso così a random gli sparate con questo fucile diciamo più laggiarazzi ci sono anche le spade a quanto vedo diciamo che non è che sia il fattore combattimento non è il fattore diciamo predominante del del gioco più che altro si esplora come vedete esplorazione puzzle fight è un piccolo spicchietto diciamo del del da farsi nel gioco il gioco è completamente tradotto in italiano sia per quanto riguarda i testi che l'audio c'è anche l'audio credibilmente non me lo sarei mai aspettato in un gioco del genere comunque c'è l'audio in italiano ci sarà una pseudo storia forse dietro non lo so comunque ragazzi questo è il gioco di questa settimana per quanto riguarda gli altri che usciranno giovedì prossimo poi ne parleremo avete tempo appunto fino a giovedì alle 5 del pomeriggio per riscattare supra land e non finisce qua però perché su steam ci sono due giochi in regalo il primo per chi non lo avesse ancora riscattato sia su epic l'hanno regalato un po ovunque c'è arc survival evolved allora gioco diciamo ambientato nel futuro ma ci sono i dinosauri quindi dovrete comunque farmare sa questi giochi bisogna farmare costruire evolvere insomma costruire armi sempre più nuove con materiali più nuovi domare dinosauri e usarli come armi diciamo come cavalcature vabbè comunque c'è anche un fattore pvp perché è un massivo quindi o ci si allea o ci si uccide gioco da giocare assolutamente con gli amici perché da soli mi sono un po pesante con gli amici sicuramente come sempre per tutti i giochi vale il doppio diciamola il divertimento è raddoppiato è però purtroppo questo qua me ne sono accorto solo oggi che può essere riscattato finale 19 di oggi quindi sono le 12 e 33 mentre lo pubblico comunque avete qualche ora di tempo per riscattarlo per chi non lo avesse ancora perché ripeto l'hanno regalato un po ovunque quindi presumo che dovreste averlo su qualche piattaforma ultimo gioco ma non per demerito anzi uno storico gioco street fighter 2 the world warrior non so se si chiamasse proprio così o un diciamo un di più è un dlc non lo so comunque è lo storico street fighter proprio quello del cabinato infatti c'è anche la foto non c'è bisogno di parlarne insomma picchiaduro storico quindi il numero vabbè raga street fighter da c'è bisogno che lo spiego e questo però non c'è scritto fino a quando fino a quando sarà gratis no non c'è scritto quindi comunque affrettatevi perché di solito queste non è che lo regalano per sempre quindi andate subito a riscattarlo basta cercarlo comunque la street fighter 2 vedrete lo troverete va bene purtroppo non posso mettervi link di steam perché vi porterà la pagina del browser ma voi dovete andare proprio su steam diciamo il launcher quindi cercatevi lì e vedrete che saranno gratis noi ci fermiamo qui ci vediamo prossimamente per altri video mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate un like qui sotto se vi va e noi ci vediamo appunto ad un prossimo video ciao